Roma Termini, stazione di Roma Termini, il treno è uno star Italia, alta velocità 95, 25 di treno Italia delle ore 19 e 0 per Salerno, è in partenza dal binario 13, ferma a Napoli Centrale. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Salve. sono il macchinista del 234. Sono fermo al segnale di protezione di montaleza spento. Sono ilbiceo di Firenze. Prendete un modulo M40 Delec che dobbiamo fare una prescrizione. Inoltre in direzione 2. Grazie a tutti. 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 a tutti.